salve care amiche ed amici buon anno nuovo a tutte e tutti e qui mi produco in un altro tutorial o meglio dire revival review elettronico perché vi voglio parlare di un tablet però non lo faccio per parlare bene del tablet anzi lo faccio perché non mi ha dato tante soddisfazioni questo tablet e quindi per me già è da metterci una croce sopra la casa costruttrice perché non mi sembra di qualità poi l'assistenza è stata pessima però vabbè bando alle ciance e vi presento il tablet così poi voi potrete giudicarlo bene meglio se comprarlo o non comprarlo io adesso che ho fatto questa esperienza con questo tablet protenderei la prossima volta a spendere di più ma a comprarmi un cellulare che sono più resistenti addirittura i nuovi cellulari cinesi che sono di più qualità rispetto a quelli che hanno prodotto fino adesso comunque vanno alle ciance ecco a voi il mio tutorial sul tablet ecco a voi il tablet euro case tablet pc e youtube 710 mdq si presenta molto carino però è un tablet di gamma economica dovrebbe costare all'incirca 170 euro o meno dipendendo dalle tasse che vi faranno pagare cia due nuclei di 1,2 gigahertz android e 4.2 jellyband ram un gigabit ddr 3 memoria flash di 8 gigabit schermo tattile capacitivo di 7 pollici gp risoluzione 800 per 480 relazione di aspetto 16 a 9 camera frontale di 0,3 megapixel camera posteriore di 720 pixel di 2 megabit beh adesso ve lo passo a descrivere anche facendo ve lo vedere questo è il tablet che c'è una ranura dietro per la targhetta micro sd e però non c'è una targhetta laterale c'è un porto usb poi scenderemo nei particolari viene con una custodia impermeabile che io non ho mai usato il manuale argos dual core e youtube 710 il pendrive da 2 gigabit il cavetto adattatore con il micro usb grande auricolari e l'alimentatore adesso passiamo ad accenderlo perché vi faccio vedere le cose che non vanno in questo tablet già dicevo il gili ben 4.2.2 credo 4.2 con 6.2 momento che si accende dunque io l'ho avuto per otto mesi e ha funzionato abbastanza regolarmente poi a un certo punto non si è accesso più l'ho dovuto portare l'assistenza per fortuna che era ancora in garanzia gli hanno cambiato la placca adesso per fortuna dice 99 per cento carico perché molte volte si accende e già di meno ma il problema vero è che dicevo poi la seconda volta era impazzito il sensore tattile e hanno cambiato di nuovo la placca e anche non si ruotava lo schermo quindi me l'hanno riparato tre volte la placca l'hanno cambiata e adesso succede che non prende più l'usb e non registra ora prova prova vedi o a e dovrebbe sentirsi invece si sente basso non so che cosa può avere si sente molto basso io non so se è un problema di hardware oppure che si è resettato il microfono e quindi a quanti di voi mi vedono gli chiedo come aggiustare un tablet il cui microfono registra perché non è che non registra adesso vediamo prova 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 allora a non è che il microfono non registra dicevo inoltre dei problemi ecco vediamo perché devo avvicinare la bocca perché registri non so che è successo devo avvicinare la bocca perché registri eppure che me l'hanno riparato dovrebbe funzionare bene a parte questo è un tablet che a dalle sue soddisfazioni anche se economico a me mi fa incazzare il fatto che di colpo ora che bella camera questa di colpo vedi io filmo io filmo e ho filmato per youtube tanti video però non riesco a capire perché adesso non registra più è una cosa sconcertante come mai come mai non registra più bene che io ho fatto dei video per youtube con questo cellulare con questo tablet vediamo un po perché fa quel che cazzo vuole se lo sentite si sente ma si sente come lontano un chilometro il video è anche peggio quando registri con il microfono qualcosa si sente ma qua vicino al microfono del cellulare non si sente niente e quello il mio dubbio amletico e poi che non funziona la presa micro usb che questa vicino io dovrei provare se adesso perché funzionava funziona la presa hdmi perché magari è la placca che ha dei problemi o magari un problema di drives ma hanno detto che bisogna cambiare la room però io ho stesso la garanzia per fortuna allora forse dovrei portarlo al negozio dove l'ho comprato perché facciano qualcosa perché va beh poi succede che io non è che registravo molto con il tablet perché un po scomodo ma il fatto di non poter usare appieno una cosa che ti è costata denaro ti fa incazzare anche se poi magari ecco che mi riparano quello a me già me l'hanno riparato tre volte cambiando tutto mi riparano quello e si rovina qualcos'altro come è successo in passato quindi io vi invito a dirmi adesso siamo la camera del sistema come fare come fare a riparare questa ciafica qua perché ripeto con il microfono magari prova 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 con il microfono magari registra qualcosa si sente basso certo con il programma della camera ho visto che con la camera del sistema ho visto che registra più alto però non più alto come registrava prima cioè registra più alto per modo di dire ho scaricato un mucchio di programmi per controllare il volume ho scaricato un mucchio di programmi per controllare il volume però nessuno mi è servito e quindi io vi chiedo e quindi io vi chiedo e mi chiedo anche io a me stesso è possibile scaricare qualcosa per controllare l'assetto del volume dell'audio che non necessiti del processore che hanno i cellulari le sedi che cioè le medica fa non so perché molti controllatori dei parametri di android di rimettere il codice con il dealer del telefono ma questo tablet non ha 3g quindi non si può far proprio programmazione con il dealer del telefono e la tastiera del telefono come nel cellulare cioè questo tablet non ha questo vedi con il cellulare metto qua il codice per esempio faccio questo non posso entrare in questo genere di programmazione con il tablet perché non ce l'ha non c'è al mercato telefonico quindi se qualcuno di voi sa come possa aumentare il volume del microfono se magari che si era settato non so attivarli la presa micro usb gli sarei grato allora molti di voi si chiederanno si chiederanno dicevo perché saint jean fa questa recensione perché saint jean fa questo revy view e perché poi c'è da dire anche che devo tenere alzato il tablet perché questa volta che me l'hanno riparato lo spinotto della presa di alimentazione del caricabatterie a volte non fa contatto perché faccio questo per alertarvi innanzitutto dal comprare tablet economici che magari ecco per una differenza di 50 o 100 euro avrei potuto prendere un samsung galaxy tab però ho visto che anche chi ha la fortuna di comprarsi un galaxy o un lg o un htc a volte agli stessi problemi quindi deve essere un problema di sistema operativo che per di drives e poi ecco per chiedervi a tutte e tutti voi che avete avuto la pazienza di guardarvi questo tutorial come si può fare perché io ho un microfono che registra ma registra molto basso per esempio se faccio così ho incluso se martelletto vedete come aumenta se martelletto vicino al microfono tatatata colpo colpo il pastrello o con l'unghia parte schizza il microfono guarda sul microfono faccio così e quindi registra poi la voce adesso sentite se urlo nel microfono registra e anche registra bene però non ho trovato nessuno che mi possa dire in linea anche perché le conversazioni vertono su altri temi sul microfono come mai succedono questi fenomeni se si strilla vicino o se si martelletta vicino con l'unghia col dito registra benissimo anche i video e soprattutto quando l'applicazione del sistema operativo della della videocamera quando invece si parla lontano e si fanno rumori lontano magari i rumori di registra la voce no quindi questo che mi fa incazzare e poi vediamo un po come potrete vedere di solito detettava subito che avevo messo la web il pendrive adesso non lo detetta per niente e quindi mi chiedo come mai non funziona il porto micro usb e il microfono funziona così scemato io per il porto micro usb posso fregarmene perché tanto metto la targhetta dietro certo si potrebbe accedere al sistema tutte queste cose ma il microfono è più importante per me beh amici di android amici nell'informatica e tutti gli amici ed amiche che mi seguono in youtube da molto tempo perché stiamo superando le 80.000 visioni questo tutto mi raccomando se potete dirmi come aumentare il volume del microfono magari qualcuno mi segue di euro case allora mi spieghi lui come aumentare il microfono perché se no non comprerò devo rinnovare il mio computer adesso che youtube mi pagherà magari qualche centone di e di dollari è però così non ho confidenza nel marchio euro case perché tutto quello che è passato con questo tablet spendere in tassi per andare al centro e tutto il resto però ecco come attivare questo benedetto microfono che è la terza volta che me lo riparano ha sempre funzionato nel nella placca però adesso registra ma al minimo non è che non registra addirittura ha fatto film che sulla show però del 12 dicembre che si sentiva solo rumore poi invece registra però così basso che non so se il parlante rotto ma poi vado a vedere il video e non registra ci deve essere qualcosa ho dovuto passare il video alla micro sd perché l'usb anche non funziona quindi come riparare micro usb e microfono io non voglio reinstallare una room perché ho paura di bruciarmi tablet poi la garanzia non va quindi vi ringrazierei di suggerenze e poi grazie di seguirmi e ci vediamo presto però un altro tutorial su altri equipaggiamenti elettronici al più presto raccontandomi la mia esperienza raccontandovi la mia esperienza perché magari questi strumenti sono hanno già usciti però voglio che voi vediate come sono i problemi che vi possono presentare se è il caso di spendere di più o comprarli poi a voi la scelta io veramente avrei preferito comprare un cellulare un po più caro del tablet perché per esempio il mio galaxy yung 53 60 è costato un po di meno di questo tablet che vi ho presentato l'euro case o per 710 mdq però esiste più anni non mi ha mai presentato dei problemi mai anche se ho stesso la garanzia mai dovuto portarlo al centro assistenza invece il tablet l'ho dovuto portare quattro volte o otto non mi ricordo in otto messi di vita questo c'è già quasi due anni che lo a gennaio febbraio faranno due anni per il momento tocchiamo ferro ma non non ha presentato nessun inconveniente quindi a voi lardo a setenza se è meglio non tablet io vi consigliere che sia molto costoso o se non cellulare che può essere meno costoso del tablet ideale perché più resistente per me il cellulare e sennò direttamente passare a una laptop oppure un computer fisico per il cellulare più conveniente si può programmare meglio con mdk eccetera soprattutto se android beh allora vi lascio grazie di seguirmi dal prossimo tutorial ciao e buon anno nuovo di nuovo dal vostro xan ten chan